Buonasera al pubblico di Porta a Porta, bentornato Luigi Di Maio, candidato premier per il momento 5 Stelle. Allora, stasera abbiamo lei, domani avremo Matteo Renzi, domani avremo Silvio Berlusconi e per tutti il primo titolo sarà uguale, il mio programma per cambiare l'Italia. Poi entriamo nel merito del programma e quindi andiamo al secondo titolo, reddito di cittadinanza single, cioè persone sole e famiglie e poi single non significa necessariamente non sposati, significa persone sole o no? Significa persone che non vivono in un nucleo familiare. In un nucleo familiare e poi riduzione delle tasse, estensione della no tax area, cioè della fascia nella quale non si pagano delle imposte. E ancora, eccolo qua, beh chiudiamo, le piace Modugna? Bellissima, fantastico. 1958-2018, così volare con tutto il mondo. Oggi è il compleanno di Modugna, avrebbe compiuto 90 anni, purtroppo se n'è andato molto presto. Allora, prima di parlare del programma con lei e poi nei prossimi giorni con gli altri leader politici. Volevo parlare un momento delle novità che ci sono state nel nostro movimento, per esempio con la formazione delle liste. Per la prima volta, se non ricordo male, c'è posto per gli esterni, cioè delle persone che ovviamente si riconoscono perché non si candiderebbero, ma non sono i militanti, non sono stati i militanti, cosa che non è piaciuta a tutti. Però è una cosa che assomiglia diciamo alle regole generali, anche agli altri partiti. Prendono la società civile, le persone magari simpatizzano per Forza Italia o il Partito Democratico, ma che non sono né iscritti né militanti. Come mai questa svolta? Beh, diciamo che da settembre, quando sono stato individuato come capo politico del Movimento, ho la responsabilità di presentare anche le liste per le elezioni politiche. Abbiamo messo in piedi un nuovo statuto che all'interno contiene delle regole ancora più ferre per chi sarà eletto nel futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Tenga presente che ci sarà una regola per cui, anche se sei indagato, ma dalle carte vengono fuori delle condotte indecenti, sei già da allontanare. Non bisogna aspettare la condanna in primo grado. Ma c'è una distinzione tra tipo di reato? No, c'è una distinzione semplicemente nel fatto che può essere indagato per una querela o può essere indagato per corruzione. Fa una bella differenza. Se sei indagato per un reato e dalle carte già esce fuori che non ti sei comportato bene, io non aspetto il terzo grado di giudizio. Questa è una vecchia questione morale delle forze politiche. C'è un'altra regola che abbiamo voluto introdurre e mettere nero su bianco, che riguarda la multa per chi cambia casacca. Io lo voglio assicurare agli italiani. Se andiamo al governo faremo una norma costituzionale che impedirà a chi cambia casacca di restare in Parlamento. Se ne deve andare a casa chi cambia casacca. E la terza cosa importante... Questa è una legge costituzionale, forse non tutti i nostri ascoltatori sanno che questa cosa eticamente è anche comprensibile, perché quest'anno abbiamo visto 500 cambi di casacca da parte di 300 parlamentari. In questa legislatura ce n'è stato uno ogni tre giorni, in pratica durante tutti i cinque anni. Esattamente, però la Costituzione dice che per rendere libero il parlamentare, il parlamentare non ha vincoli di mandato. Nel senso può fare quello che gli pare, sostanzialmente. I nostri avvocati sono al lavoro per permettere ai nostri candidati di sottoscrivere un impegno che li obbliga a pagare una multa se vogliono cambiare forza politica. Questo per rispetto degli elettori e per chi ci vota. E poi una terza norma importante, poi vengo alla risposta alla sua domanda, che è quella sempre dei soldi. Da noi si rinuncia al vitalizio, ci si taglia gli stipendi, niente trattamento di fine rapporto, niente doppi stipendi e la credibilità nel dire questa cosa io ce l'ho perché da Vice Presidente della Camera mai toccato Auto Blu, volo di Stato, doppio stipendio, doppi rimborsi, ho tagliato il mio stipendio da deputato e rinunciato al vitalizio. La novità è perché si stanno avvicinando al movimento tante personalità che vengono dal mondo del giornalismo, dal mondo dell'università, dal mondo delle imprese. Quindi adesso non si vomita più per i giornalisti insomma. Ma io ho sempre fatto gli opportuni distinguo e vedo che si stanno avvicinando tante persone che vogliono contribuire a questo progetto. L'atteggiamento che abbiamo avuto e che stasera voglio continuare ad avere nel lanciare un appello anche per la formazione dei collegi uninominali, è dire alle migliori energie di questo Paese, entusiasmi, le migliori persone che hanno voglia di fare e di cambiare, che se vogliono, voglio dire a quelle persone, se volete cambiare questo Paese, il movimento è un movimento aperto. Certo, come diceva lei, bisogna condividerne i valori, i principi, bisogna rispettarne le regole, alcune le ho enunciate, un'altra è che se ti candidi nel movimento devi candidarti nel tuo luogo di residenza, non è che vieni paracadutato a Trento perché c'è un collegio sicuro, ti candidi dove sei residente perché devi conoscere il territorio. Ma questi nomi un po' più noti li proteggerete anche nel proporzionale o li mandate nell'uninominale? No, io guardo ho apprezzato tantissimo una cosa, le dico, che persone che, come dire, hanno tanto da perdere anche nello schierarsi col movimento, nel senso che il movimento comunque è una forza politica che per chi ha una professione, chi ha un lavoro, non è semplice, non è un semplice movimento a cui aderire. E io le dico, queste persone si sono messe in gioco e si faranno anche le selezioni online con i nostri iscritti. Penso al comandante De Falco, lei lo ricorderà, è il comandante che disse a Schettino salga di nuovo a bordo, è una persona che, mentre stavano morendo dei passeggeri, intimava il comandante di fare il suo dovere. Lui si è presentato... Che però qualche mese fa ha detto anche delle cose un po' pesanti su di Battista. Io l'ho sentito il comandante De Falco e mi ha detto che era una battuta, ma lui si farà le parlamentarie, cioè l'umiltà di queste persone nell'avvicinarsi al movimento e fare il percorso come l'abbiamo fatto, come l'ho fatto io cinque anni fa e lo rifarò anche io mi farò selezionare dagli iscritti nelle liste elettorali, è importante. Poi c'è la partita degli uninominali. Quindi tutti quanti, scusi, passano per le parlamentari. Chi vuole candidarsi nei proporzionali fa la selezione online. Per chi invece vuole partecipare alla fase degli uninominali, lei sa bene come funzionano i collegi uninominali, lì dobbiamo individuare persone del territorio che siano in grado anche di fronteggiare quelli che candideranno le altre forze politiche e lì, sempre rispettando le regole e i valori del movimento, come capo politico avrò la possibilità di individuare le persone sul territorio rispettando sempre i criteri di cui le ho detto. Questo significa anche dare un'opportunità a persone, imprenditori, persone che lavorano sul territorio nelle associazioni, nella scuola, nell'università, persone anche che conoscono bene grazie alle battaglie ambientali di una determinata terra, di partecipare a questo percorso. Io sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto fino ad ora perché abbiamo rafforzato i nostri principi e le nostre regole e questo ha fatto avvicinare nuove persone e arricchirà il futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle che andremo a formare nella diciottesima legislatura, che spero sia un gruppo parlamentare di governo e che ha bisogno di competenze, sensibilità e voglia di fare. Allora io mi sono guardato il vostro nuovo statuto. Allora intanto soprattutto c'è la guida suprema, direbbero in Iranda, la guida suprema da voi è il garante che peraltro è un carico a vita, nel senso che soltanto con un impeachment potrebbe essere sostituito, mi pare di aver capito insomma, e che è l'unico ad avere l'interprezione autentica, non sindacabile delle norme dello statuto. Però il capo politico, cioè lei, è importante. E qui c'è scritto il capo politico ha sentito il garante a facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo eventuale parere vincolante e negativo sull'opportunità di accettare la candidatura. Tutto questo avviene prima delle parlamentarie o dopo? Avviene sempre, perché io devo tutelare insieme, come ha letto, insieme a Beppe Grillo che è uno dei fondatori, l'altro era già Roberto Casaleggio che ci ha lasciato, io devo tutelare il Movimento anche da approfittatori, da persone che credono di poterlo utilizzare per guadagnarsi un posto in Parlamento. Tenga presente che noi siamo la prima, lo sa bene, noi siamo la prima forza politica del Paese, il primo Movimento d'Europa, questo significa che tanti magari vogliono salire su questo carro per guadagnare un seggio in Parlamento, ma io devo tutelare il futuro gruppo parlamentare che probabilmente pubblicherà il numero di parlamentari che abbiamo oggi, un gruppo parlamentare che deve sostenere un governo 5 Stelle, un gruppo parlamentare che deve fare quelle cose di cui si parla da 30 anni in questo Paese e che spero di poterne parlare nell'ambito del programma. Ecco, però mi scusi, ho capito, l'hai detto sempre, quindi anche una persona che ha superato le parlamentarie... Se scopriamo che per esempio ha precedenti penali, se scopriamo... Ma questo lo potete sapere prima, gli chiedete il certificato penale, quindi... Se per esempio utilizza un linguaggio particolarmente usceno verso un altro interlocutore politico, pensiamo quante volte durante le campagne elettorali ci si comporta in maniera, sopra le righe, troppo scorretta? Oppure pensiamo a una persona che compie un atto non etico o addirittura illegale durante la campagna elettorale? Io devo avere comunque il modo di allontanare questa persona? Quindi può verificarsi di nuovo il caso Cassinatis. No, ma... Beh sì, lei ci fu una signora che ha superato le parlamentarie, però Grillo ha detto non è adatta e l'ha tirata fuori. Questi poteri sono semplicemente legati a tutelare il Movimento da chi ne vuole approfittare. Chi ne vuole approfittare non ha spazio nella nostra forza politica. Ma allo stesso tempo, anche con i fatti di questi giorni, le persone che si sono avvicinate, penso anche a tanti altri profili che si candideranno nelle nostre liste, dimostriamo di essere un movimento aperto. In questi giorni le segreterie di partito stanno decidendo a tavolino dove piazzare i loro anche nelle liste proporzionali. Noi stiamo facendo una selezione pubblica e ci stiamo aprendo alle migliori energie di questo Paese. Io credo che questo farà la differenza anche alle elezioni del 4 marzo, perché è un atteggiamento diverso, che è coerente con quello che abbiamo detto in tutti questi anni. Non tuteliamo noi stessi, lavoriamo per il Paese e vogliamo coinvolgere chi crede in questi valori. Però il giudizio può precedere o può seguire le parlamentarie. Io spero che non ce ne sia bisogno, ma sicuramente quella norma è un deterrente per gli approfittatori. Un'ultima cosa per l'organizzazione. Io mi scusi, ma non ho capito il ruolo di Casaleggio. Per esempio, ho fatto un salto sulla sedia quando ho visto che Casaleggio era andato all'ambasciatore inglese a esporre le caratteristiche dell'ambasciatore importante, insomma. La strategia del movimento. Ma chi è Casaleggio? Chi l'ha eletto? A che titolo ci va? A parte il fatto che quando si va da un ambasciatore, immagino che sia l'ambasciatore che invita la persona. Detto questo... O la persona che chiede di essere ricevuta. Sì, credo che sia stato il contrario, ma questo lo può chiedere anche all'ambasciata. Per quanto riguarda Davide Casaleggio, Davide è la persona che a costo zero ha progettato i nostri sistemi operativi insieme a suo padre, Gianroberto Casaleggio. Oggi quello che fa Davide Casaleggio è lavorare a quei software e io lo ringrazio perché lui ha un'azienda da mandare avanti che non utilizza quei software in questo momento che sono nell'associazione Rousseau e soprattutto è un'azienda che ha bisogno di tante energie e lui una parte di quell'energia le mette a servizio del movimento. Non ha incarichi decisionali, non è una persona che prende decisioni politiche nel movimento, ma è una di quelle persone grazie alla quale oggi decine di migliaia di nostri iscritti possono decidere chi entrerà nelle liste parlamentari attraverso un sistema operativo che si chiama Rousseau. Si ricorda, molto spesso si è parlato della formazione delle classi dirigenti, noi abbiamo sistemi operativi che permettono ai nostri eletti di formarsi in e-learning seguendo le lezioni dei nostri consiglieri comunali più esperti di lunga durata. Io pure ho fatto delle lezioni sul sistema parlamentare, su come funziona quando presedevo la Camera. Abbiamo dei sistemi operativi che ci permettono la raccolta fondi. Io sono arrivato già a 300 milioni di euro di raccolta fondi per la campagna e le elezioni politiche con donazioni in media di 20 euro che vengono da tutto il mondo, di persone che ci credono. Non ho chiesto finanziamenti pubblici e non ho preso finanziamenti da grandi lobby. Tutto questo ecosistema che c'è nel movimento va avanti anche grazie a Internet, ma grazie a un sistema operativo progettato da Davide e che è la naturale continuazione di quello che aveva progettato già Roberto. Allora, veniamo un momento al programma. Guardiamo questi punti, il programma ce n'è tanti, ma noi abbiamo scelti sei. Allora, rilancio l'occupazione, in particolare quella giovanile. Reddito di cittadinanza, 780 euro ai single, lei ha detto prima alle persone che non vivono all'interno di un nucleo familiare più vasto, 1.638 a famiglie con due figli. Terzo, investimenti produttivi con la spending review, cioè con la revisione delle spese, in qualche modo tagli, sprechi, spesa pubblica e privilegi. Quattro, taglio pensioni superiori a 5.000 euro netti per chi non ha versato contributi, e cioè chi non ha versato contributi sufficienti a guadagnarsi 5.000 euro netti. Quinto, riforma dell'IRPEF, riduzione aliquota ed estensione della fascia esente. Sesto, aumento del welfare, dell'assistenza familiare, dall'1,5% del PIL al 2,5% per frenare la caduta del tasso di natalità. Bene, adesso avremo due ospiti che insieme con me faranno un'analisi delle proposte e dei posti. Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera. Allora, Massimo, prego. Intanto vedo che sono cifre espresse in euro, e quindi questo mi porta intanto a cercare di capire dall'onorevole Di Maio qual è la vostra posizione, una volta per tutte, con un po' di chiarezza sull'euro. Perché se lei si candida a fare il Presidente del Consiglio, si vorrebbe capire se voi l'euro lo volete sostenere o pensate di boicottarlo, arrivare a un referendum che tra l'altro è incostituzionale. Quindi questa è la prima domanda che prende spunto proprio dal fatto che il vostro programma si è espresso in euro. Qual è la vostra posizione sull'euro? Bene, Dottor Franco, io sono molto ottimista sulla situazione sia dell'Unione Europea sia dell'Unione Monetaria, perché rispetto al 2013 quando siamo entrati in Parlamento la situazione politica è cambiata a livello europeo. Abbiamo la Germania che non riesce a fare un governo da 95 giorni, la Francia che ha i partiti tradizionali ridotti ai minimi termini da Macron, la Spagna ha un governo di minoranza e il Portogallo ha un governo di minoranza. Le piace Macron? Io penso che nel suo programma ci siano cose molto interessanti, altre un po' meno, ma sicuramente in questo momento il quadro europeo vede non più quel monolite che era l'asse franco-tedesco, ma c'è un momento in cui l'Italia può contare di più a quei tavoli. E quindi io non credo che sia più il momento dell'Italia per uscire dall'euro. Infatti io parlo del referendum come estrema razio, che spero di non utilizzare, perché il mio obiettivo è uno, avere la possibilità come Spagna e Francia di fare investimenti in deficit come Paese, ricontrattare i trattati di Basilea che vietano alle imprese ormai di avere crediti o impediscono alle imprese di avere crediti e allo stesso tempo ricontrattare alcuni trattati che stanno distruggendo la nostra agricoltura e che stanno danneggiando quindi una parte importante del nostro Paese. Scusi, lei sa meglio di me che il referendum sull'euro sarebbe incostituzionale perché la Costituzione non lo permette. Lei fa questa considerazione perché pensa al referendum come è inteso dalla Costituzione attuale che lo vieta per questo genere di materie. Il referendum consultivo invece può essere istituito con legge costituzionale, ma io le dico su questo che adesso è il momento di andare a quei tavoli con un peso contrattuale come Paese, il primo per export grazie ai nostri imprenditori, non grazie al governo in Europa, seconda forza manifatturiera d'Europa che da 20 miliardi di euro al bilancio europeo ogni anno deve andare a quei tavoli a cominciare a farsi ascoltare nell'ambito di un dialogo ma consapevoli che siamo un Paese fondatore dell'Unione Europea e vogliamo contare soprattutto nella difesa delle nostre imprese. Allora, Marcello Sorgi, editorialista della Stanza. Prego, mi sembra un programma vasto, piuttosto vasto di quelli che richiedono tempo, che nel caso in cui il Movimento 5 Stelle vincesse le elezioni e formasse il governo è naturale aspettarsi dagli elettori del Movimento 5 Stelle una certa impazienza, un po' perché voi siete stati cinque anni all'opposizione denunciando quelle che dal vostro punto di vista sono le malefatte dei altri partiti, sia di quelli che stavano al governo che di quelli che stavano all'opposizione con voi. E quindi dopo cinque anni è lecito aspettarsi una certa impazienza che per esempio solo per dire che andremo sui tavoli europei a discutere, a far cambiare i criteri, ma ci sono un certo numero di Presidenti del Consiglio, di Ministri degli Esteri e dell'Economia che ci hanno provato prima di voi senza riuscirci. Renzi si prese addirittura delle rampogne perché gli dicevano che alzava un po' troppo la voce, che faceva troppe polemiche, che in Europa bisogna adoperare gli argomenti più pacati. Quindi il programma lo trovo vasto e a rischio di richiedere il tempo che poi porta a una delusione che tutti i programmi riformatori se non si realizzano poi si scontrano contro lo scetticismo degli elettori. E le chiedo questo, siccome ovviamente per realizzare un programma di questo genere, a parte i costi che sono da vedere, ho visto peraltro che c'è un aumento del reddito di cittadinanza, cioè con due figli passa a 1.638 euro, quindi quei 17 miliardi che erano stati calcolati come costo del reddito. No, è tutto lì dentro. Adesso ve lo vediamo. Ma insomma le vorrei chiedere questo, lei ha detto se vinciamo bene, ma se ci dovesse mancare qualcosa faremmo un appello. E a chi vi rivolgerete? Su quali punti cercherete di fare l'accordo? Cioè guarderete più a sinistra o più a destra, più verso Grasso, che sembra un vostro interlocutore, più verso Salvini che in passato lo è stato, adesso mi pare che negli ultimi tempi lo sia un po' meno. Io le dico che noi stiamo in questo momento avviando in Italia. Il 4 marzo ci farà capire quale sarà il peso specifico dei singoli gruppi parlamentari in Parlamento. Si parla molto di Grasso, della sinistra, ma noi dobbiamo capire prima quanti parlamentari prendano. Come quando si parla di Salvini o si parla di Berlusconi, ricordo che sono partiti del 14, del 15, quindi bisognerà vedere quanti parlamentari prenderanno. Quindi adesso è prematuro dire con chi. Io le dico, il nostro obiettivo è arrivare al 40% e governare da soli. Se non dovessimo riuscirci, la sera delle elezioni cominceremo a capire con un appello pubblico chi vorrà starci non sulle poltrone, ma su quei temi lì. Tra l'altro molti di quei temi che sono stati i nostri cavalli di battaglia in questi anni ormai sono nei programmi elettorali di tutte le altre forze politiche. Quindi non credo che sarà difficile per le altre forze politiche convergere su un reddito di cittadinanza, sul taglio delle tasse, sulla riforma dell'IRPEF, sull'aumento del welfare familiare. Lo dicono tutti. Ma quando dice un appello, l'appello sarà rivolto ai segretari degli altri partiti o ai singoli parlamentari che possono... No, sarà rivolto ai gruppi parlamentari, perché noi dobbiamo costituire una maggioranza che dia la fiducia ad un governo che avrà una squadra già presentata prima delle elezioni politiche, che presenterò io, con i candidati ministri, e quella proposta sarà la proposta che riceverà adesioni sulla base di priorità del Paese. Potremmo anche fare degli incontri pubblici dopo. Quindi, per esempio, se una parte dei deputati del PD in rotta con Renzi, che farà la campagna elettorale tutta contro il GSS, perché no? Proviamoci. Sarebbero i benvenuti. Io faccio l'appello ai gruppi parlamentari, non stimolo e non voglio cambi di casacca, dopo tanti anni che ho chiesto che si fermassero i cambi di casacca e Volta Gabbana. L'appello va ai gruppi parlamentari. Chi risponderà quella sera sarà un interlocutore nei giorni successivi, perché faremo degli incontri trasparenti di consultazione e formeremo quella maggioranza intorno ai temi per il Paese che si proporrà al Presidente della Repubblica. Allora, vediamo adesso, abbiamo con gli amici il Sole 24 Ore, con lei come faremo con gli altri leader politici, abbiamo fatto due conti su quello che voi volete fare. Allora, l'impegno più grosso, lodevole naturalmente, visto che con il debito che abbiamo, togliere, andiamo sotto i 100 punti, diciamo, quindi significa metterci in linea con le altre democrazie europee, taglio di 40 punti di debito sul prodotto interno lordo in due leggellature, quindi in dieci anni. Allora, sono sostanzialmente 700 miliardi, grosso modo, perché il PIL, quello che lo produciamo è 1750, più o meno, insomma, quindi 350 miliardi a leggellatura, significa 70 miliardi all'anno, quindi a bella botta, insomma. Poi il reddito di cittadinanza ai disoccupati, 780 Euro per il single, 1638 Euro al mese se la famiglia ha due figli. Qui il calcolo è solo 24 ore, più o meno come ci sono il vostro, perché tra i 15 e 20 miliardi, quindi voi di 17 ci siamo, e poi il welfare familiare, cioè da un punto e mezzo del PIL, allora facciamo due conti, il PIL sono da 22 miliardi a 40, più o meno miliardi all'anno, grosso modo, insomma. Scusi, nelle due leggellature ci sono 17 miliardi l'anno, più o meno. Sono 1800 miliardi il PIL? Sì, esattamente, 1750, quindi più o meno un punto, 17 miliardi e mezzo. Il totale, andiamo a vedere quanto costa, costa 104 miliardi all'anno, che è una roba molto impegnativa. Voi dite 50 miliardi a bianco statale per sprechi e privilegio e poi vediamo. Poi la storia delle pensioni sopra i 5 mila Euro, gli esperti ci dicono che è calcolabile con enorme difficoltà. Una cifra realistica potrebbe essere 2 miliardi. Allora, dove prendete questi 50 miliardi e dove prendete gli altri 50 che quasi mancano? Allora, prima di tutto le dico, le misure che lei ha citato come il reddito di cittadinanza e il welfare familiare che significa arrivare agli standard francesi, noi siamo l'ultimo paese per nascita in Europa, la Francia è il primo paese per nascita in Europa. Non è un caso che loro investono il doppio di quello che investiamo noi rispetto al PIL. Ed è quello che vogliamo fare. Unito allo strumento del reddito di cittadinanza, queste misure producono una crescita economica, uno sviluppo economico che dopo aver prodotto più gettito per lo Stato ci permettono di ripagare anche il debito. Quindi le misure che lei ha illustrato devono essere interconnesse. Non possiamo pensare di tagliare soltanto e pagare il debito. Su questo voglio fare una precisazione. In questi anni alla sanità, all'istruzione, ai servizi degli italiani sono stati tagliati soldi con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Il debito pubblico continua a segnare dei record e alla fine la ricetta non sta funzionando. L'unico modo per far funzionare questa ricetta è come se io avessi un'impresa, debba fare degli investimenti e invece di prendere i soldi chiedendo un prestito, facendo gli investimenti, rilanciando l'impresa, ripagando il prestito e continuando ad andare bene col mio business, è come se invece io mi mettessi a vendere i macchinari. Non avrei i macchinari per produrre e non avrei i soldi per far crescere l'impresa e farla sviluppare. Però prima lei ha detto, a proposito del 3%, questo vincolo malefico che ci portiamo addosso, lei ha detto io vorrei sfondarlo in qualche modo come fanno la Francia e la Spagna. Ora dal 2009 ad oggi in Italia l'ho sfondato la Spagna otto volte, però non gli hanno detto niente, la Spagna stava sotto tutela per un certo periodo, la Francia che c'è dei parametri pessimi complessivamente però ha un debito molto più basso. Quindi come farei a ridurre il debito, mentre praticamente spende grosso modo la ventina di miliardi più all'anno? Le dico semplicemente, siccome non funziona restare nell'austerity, restare in quei parametri e lo hanno capito anche Francia e Spagna, noi dobbiamo fare una cosa, superare il 3% e fare investimenti ad alto moltiplicatore, che sono investimenti produttivi nei settori della sicurezza del territorio, di sesto idrogeologico, energia, infrastrutture, anche grandi infrastrutture, ma dove servono, non le grandi infrastrutture inutili. Questi settori con opportuni investimenti fanno ripartire l'edilizia, fanno ripartire il lavoro, fanno ripartire l'economia del territorio, c'è più gettito per lo Stato e lo Stato ripaga il debito. Il reddito di cittadinanza e le misure di welfare invece io non le voglio fare in deficit. Il reddito di cittadinanza ha tutte le coperture e non chiedo di sforare il deficit per il reddito di cittadinanza, chiedo una cosa e le assicuro una cosa, la assicuro agli italiani, il mio governo non lascerà mai più una persona singola o una famiglia di pensionati o una famiglia di italiani che hanno due figli con meno di 14 anni sotto la soglia di povertà. Perché se io sono un padre di famiglia e sono l'unico che lavora e perdo il posto di lavoro attraverso un periodo di difficoltà, quel padre di famiglia insieme a sua moglie, se hanno due bambini con meno di 14 anni avranno 1630 euro al mese per poter poi trovare un nuovo lavoro. Se invece sono una famiglia di pensionati, io sono stato a Milano una settimana fa a Pane Quotidiano, che è un'associazione che distribuisce pasti alle persone in difficoltà, il 70% degli italiani che vanno a Pane Quotidiano sono pensionati, pensionati che ricevono quindi una pensione. Allora se una coppia di pensionati in questo Paese vuole vivere con reddito di cittadinanza avrà almeno 1170 euro al mese, non ci saranno più coppie di pensionati con meno di questa cifra, grazie al reddito di cittadinanza. Allora se prendono due pensioni da 500 euro, questa coppia prende 1000 euro, lei questi 1000 euro a quanto li vorrebbe portare? Adesso arriverebbero a 1170 euro insieme. Quindi darebbe 170 euro in più sostanzialmente. Infatti questo è il punto del reddito di cittadinanza, quando si fanno i calcoli sballati si dice costa 90 miliardi. Io porto a livello di soglia di povertà, sopra la soglia di povertà, le persone che vivono sotto. Quindi se prendono 1100, se prendono 1000 hanno 170 in più, se invece prendono 200 di pensione arrivano a 1170. E' questo il punto. La famiglia con due bambini di meno di 14 anni e il padre lavorava e prendeva uno stipendio e adesso hanno un reddito zero, avranno 1630 euro al mese per poter far vivere i propri figli, ma soprattutto se non li mandano a scuola gli tolgo il reddito, se non assicurano i servizi di istruzione essenziale ai loro figli gli tolgo il reddito. E come fa a controllare tutto questo? Perché 1638 euro sono purtroppo spesso molto più di uno stipendio di una persona. Prima di tutto voglio dire una cosa, anche a chi ci ascolta e magari ha un lavoro e gli auguro sempre di averlo. Questa è una misura temporanea perché il padre di famiglia e la madre di famiglia si devono formare per un nuovo lavoro che gli propone lo Stato. Come si controlla? Una cosa che non hanno voluto fare in questi anni per le gelosie degli enti pubblici italiani era unire le banche dati. Io ho conosciuto imprenditori che passano 130 giorni l'anno a fare scartoffie quando invece basterebbe unire le banche dati di Camera di Commercio, IMSS, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e Discussione, Comune e si potrebbero avere tutti i dati per controllare qual è lo stato di onestà di una persona e se si sta comportando bene oppure male rispetto al fisco e rispetto allo Stato. Il welfare familiare, concludo, invece lo possiamo finanziare annualmente semplicemente recuperando le risorse che in questo Paese si sprecano nel dare incentivi ad esempio ai carbon fossili. Questo è un Paese che ha la più grande esposizione da rinnovabili d'Italia e diamo ancora soldi a piattaforme petrolifere perché alcune di queste compagnie finanziano le campagne elettorali dei partiti che vanno al governo. Io voglio trovare le risorse sia dal taglio del genere ma anche dal taglio della spending review. Voglio prendere il piano Cottarelli e farlo meno, non voglio più prendere nuovi commissari alla spending review e ricominciare da capo. Ogni anno che il commissario della spending review diceva al Presidente del Consiglio che dobbiamo tagliare 7 mila partecipate, scendere sotto le mille, il Presidente del Consiglio aboliva il commissario alla spending review anziché abolire le partecipate. Prendiamo i soldi dai tagli della spesa improduttiva. Intanto ho l'impressione che questa premessa di sfondare il tetto dei vincoli europei sia un pessimo viatico perché credo che porti a un nuovo isolamento dell'Italia rispetto a un'Europa che non mi pare sia disposta ad allargare i cordoni della borsa nei confronti dell'Italia e dei paesi del Mediterraneo. Quindi questa è la prima perplessità che ho. La seconda mi chiedo se questa sua analisi che sembra fare tutto in modo abbastanza facile e razionale come mai non ci abbiano pensato gli altri. Io non credo che voi siate dei geni che hanno trovato la soluzione quando gli altri non ci sono riusciti. Non lo dico neanche io, non lo penso neanche io. Perché altrimenti forse tanti problemi li avremmo già risolti. La terza cosa, lei sta parlando di un governo 5 stelle. In realtà lei prima ha detto una cosa, ha detto noi faremo un appello ai gruppi parlamentari, devo vedere quanti parlamentari eleggeranno i singoli partiti. Ecco il problema vostro è che voi non siete alleati con nessuno quindi magari prenderete molti voti ma non tanti parlamentari quanto si dice ad esempio il centrodestra. In questo caso il capo dello Stato deve dar l'incarico a chi ha più parlamentari o a chi ha più voti? Mi permette prima di rispondere alla prima domanda. Qui tutti hanno detto anche e stanno dicendo in questi giorni che vogliono aiutare il Paese con misure come il sostegno al reddito, c'è chi lo chiama reddito di dignità, chi reddito di inclusione ce l'hanno copiato poi gli hanno cambiato. Ma questa non è una giustificazione, mi scusi, se anche gli altri dicono delle cose che sono irrealizzabili, non è che per questo... Forse mi ha frainteso. Qui tutti stanno dicendo le stesse cose. Io non posso accettare che oggi mi vengano a parlare di aiutare i pensionati quelli che hanno votato la legge Fornero come il centrodestra e il centrosinistra perché non hanno nessuna credibilità. Lei ha ragione a dire ma perché non ci avevano pensato gli altri? No, ci avevano pensato. Però quando bisognava tagliare la spesa improduttiva dello Stato e tagliarsi qualche privilegio o qualche rendita sul territorio dei loro presidenti di regione e sindaci, è lì che hanno scelto di tagliare dalle pensioni degli italiani. Quei signori che oggi parlano di sicurezza hanno fatto gli svuotacarceri, il centrosinistra, le leggi ad personam per Berlusconi che hanno tirato fuori dal carcere un sacco di gente, il centrodestra. Lei sa che abolire la legge Fornero sono calcolato con questi 20 miliardi di euro. Forse se ne è accorto Berlusconi visto che l'aveva sancito 24 ore fa con Salvini, il quale aveva detto aboliremo la legge Fornero e poi adesso oggi Berlusconi ha detto non la aboliremo più. Ha detto faremo dei correttivi. Sì, faremo dei correttivi. Sappiano gli elettori della Lega che Salvini per qualche poltrona in Parlamento si è svenduto la battaglia sulla legge Fornero. Ora per dirle che tutti hanno detto anche in questi anni che volevano tagliare i vitalizi, hanno approvato anche una legge alla Camera, solo che l'hanno affossata al Senato. Questa campagna non si baserà solo sui programmi. I programmi sono importanti, ma è importante la credibilità di chi porta avanti quei programmi. Sul secondo punto, che è quello che anche gli italiani vogliono capire, nel senso un governo 5 stelle come si formerà. Io non pretendo dal Presidente della Repubblica un incarico di governo fondato sul nulla. Ed è per questo che dico che se non dovessimo avere i numeri, ma questo dipenderà dagli italiani, perché io gli chiedo di non votare per quelli che li hanno ridotti in queste condizioni e adesso dicono di volergli risolvere il problema. Ma se non dovessimo avere i numeri, noi faremo un appello pubblico ai gruppi parlamentari, come le ho detto, proprio per creare i presupposti di un incarico di governo. E per creare i presupposti di un incarico di governo deve cambiare il paradigma. Con me non funziona che è dammi quel ministero, dammi quell'altro ministero. No, dimmi qual è la tua priorità per il Paese, su cosa vogliamo metterci al lavoro, se vogliamo metterci al lavoro per le imprese. Domani a Milano Vespa presenta un progetto per abolire 400 leggi italiane, perché io penso che in Italia la politica pubblica, le politiche pubbliche si facciano con i soldi, ma dobbiamo abolire un po' di leggi. E la nostra legislatura, se sarà di maggioranza quella a 18esima da marzo, non sarà una legislatura che farà nuove leggi, ne abolirà con una 400 che creano un sacco di adempimenti per le imprese e non fanno capire più ai cittadini quando hanno un problema quale sia la legge di riferimento per quel problema e l'ente che glielo deve risolvere. Io le avevo chiesto un'altra cosa. Il capo dello Stato, secondo lei, affida l'incarico di formare il governo, di provare a formare un governo, a chi ha più parlamentari o a chi più voti? Ma io credo che debba dare l'incarico di governo a chi ha una maggioranza. Io credo che l'unica maggioranza... A chi può costruire una maggioranza. Ma mi scusi, mi scusi. A chi può costruire una maggioranza. E' questo il punto. Ma lo dico anche... Io sono stato Vice Presidente della Camera per cinque anni, conosco le dinamiche dei gruppi parlamentari. Io non voglio dire al Presidente Mattarella, deve dare l'incarico all'uno o all'altro perché è più bene. Anche perché non credo che Mattarella ubbidisca a voi o ad altri in modo... Ma non mi permetterei mai, Dottor Franco, come non mi permetterei mai di chiedere, di pretendere qualcosa. Io però le dico, se noi dovessimo essere al Paese, alle future elezioni. In termini di voti o di seggi? In termini di voti. Poi spero anche di seggi perché adesso si fanno delle proiezioni sugli uninominali, ma i nomi nostri degli uninominali non si conoscono ancora. Quando conoscerete i nomi degli uninominali quelle proiezioni probabilmente saranno smentite perché i collegi uninominali si giocano sulle persone del territorio, quanto conoscono il territorio e quanto consenso sanno muovere. Però il punto è che io non vedo alternative. Nel senso che il centrodestra ha fatto questa grande coalizione, qui si è caricato anche Mastella, Cirino Pomicino, che sarebbero quelli che dovrebbero cambiare in questo Paese le cose, quelli che l'hanno ridotto in queste condizioni. Il centrosinistra è fuori combattimento. La coalizione centrodestra la sera delle elezioni, il 4 marzo, non avrà il 51% dei seggi e si disgregherà, come è successo in Sicilia. In Sicilia non c'è più la maggioranza dell'Assemblea regionale siciliana, perché già Salvini e Musumesci hanno ridicato. E il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che si chiama Miciche, l'altro giorno non aveva il numero legale e ha autorizzato la votazione senza numero legale. Quindi ormai è al così essere vi pare. Non ci sono le maggioranze, ma continuiamo. Lei è molto giovane, ma nella Prima Repubblica è capitato di essere Presidente del Consiglio a Giovanni Spadolini, che aveva un partito del 3%. Lo stesso Bettino Craxi aveva un partito che era poco più del 10%. Non bisogna risalire alla Prima Repubblica, ricordiamoci che abbiamo avuto ministri con due senatori, pensiamo allo stesso Mastella, persone che io voglio ricordare agli italiani sono quelli che con i partitini facevano cadere i governi, Mastella con Prodi, Fini con Berlusconi. Queste persone qui adesso si ripropongono in queste grandi coalizioni da liste del 2%, del 3%, del 4%. Io chiedo agli italiani, se vogliono veramente dare un po' di stabilità a questo Paese, di non votarle queste coalizioni da mucchiato, perché è quello che può durare. Vedrà Di Maio, se lei dovrà fare una coalizione, quanti pedaggi dovrà pagare? Infatti io spero di non farla. Ma conveniamo sul fatto, Vespa, che questa legge elettorale ci ha portato indietro di 15-20 anni. Adesso siamo di nuovo a discutere con microparsiti del 2%. Ma che abbiamo affondato? Quello che dimostra il Rosatellum è che se si voleva andare avanti col tedesco, si poteva andare perché questa legge elettorale è stata approvata utilizzando l'impianto della legge che dicevano di aver affossato perché avevamo preso il sistema tedesco e l'avevamo applicato anche al Trentino Alto Adige. Alla fine era una scusa perché si erano resi conto che con quella legge elettorale noi avevamo un numero di seggi troppo alto perché col proporzionale il Movimento 5 Stelle giustamente ottiene il numero di seggi che merita perché è la prima forza politica del Paese. Mi chiedevate a tenere il tedesco. Ce l'hanno affermato loro, non l'abbiamo affossato noi. Posso fare una domanda un po' più pratica, se no facciamo troppa politologia. Guardi, io non sono di quelli che dicono che i guai di Roma sono tutta responsabilità della Raggi perché insomma vivo a Roma da qualche anno e so che è una città molto complicata. ma i rifiuti di Roma. Non trova che un partito che si candida a guidare il Paese dovrebbe trovare una soluzione per questo problema che affligge tutti i cittadini di Roma e che rischia di diventare allarmante perché non è solo che il problema è allarmante ma anche che ogni giorno indicano una soluzione diversa. Dicono che li mandano in Emilia, poi cambiano l'idea e dicono che li mandano in Abruzzo, poi dicono che se la possono cavare da soli. Di fronte a un problema pratico come questo si misura anche la capacità di governo. Infatti, e io le dico che noi ci prendiamo tutta la responsabilità di voler risolvere questo problema. Un problema che conosciamo quanto è grande è che nei periodi come quelli di picco, come nei periodi delle festività natalizie, si è sempre previsto che una città come Roma prevedesse di mandare i rifiuti in un'altra regione per gestire l'emergenza. Solo che a differenza di quelle di prima, noi in questo periodo in cui si prevede magari di mandarli in Emilia Romagna o in Abruzzo, abbiamo già aumentato la raccolta differenziata e stiamo costruendo tre impianti perché gli impianti non c'erano e si mandavano i rifiuti fuori regione. La regione Emilia ha un costo di 180 euro a tonnellata, l'Abruzzo di 150 euro a tonnellata. Per far risparmiare i romani scegliamo la regione che ha meno costi. Ora, ho letto un comunicato poco fa del presidente Zingaretti che dice che ci sarebbero buone possibilità per l'Abruzzo, per mandare questi rifiuti in Abruzzo, però devo dire che i presidenti dell'Abruzzo, il presidente dell'Emilia Romagna e il presidente del Lazio sono dello stesso partito. Questi tre dovrebbero dialogare e invece stanno usando i romani per la campagna elettorale delle politiche. Faccio un appello istituzionale a loro, smettetela di utilizzare i romani per le politiche e vediamo di sbloccare questa situazione che per noi è importante, ma la stiamo affrontando per risolvere e per fare in modo che non vadano mai più fuori Roma i rifiuti. Allora, Onorevole Di Maio, nei posti decenti questo problema non c'è. Ripeto, la responsabilità non è solo il Laraggi perché... Mi fa piacere che lei lo dica. Ma no, ma assolutamente, però voglio dire, questa vostra battaglia contro i termovalorizzatori è fuori del tempo. Lei è napoletano, si ricorda le battaglie contro i termovalorizzatori di Acerra? Certamente. Andai lì, l'occupato, le processioni, un'altra tragedia, muoiono tu. Oggi Acerra funziona e smista più del 50% dei rifiuti di Napoli. Sì, e ha bloccato la differenziata in tutti i comuni perché si portano, si deve far mangiare che il termovalorizzatore... Ma dico, lo stesso non voglio aprire piaghe, ma a Palma funziona magnificamente il termovalorizzatore. Mi dica una cosa, Vespa, ma se noi oggi costruissimo un inceneritore a Roma... Termovalorizzatore. No, un inceneritore, la letteratura scientifica termovalorizzatore l'ha abbandonato, un inceneritore... Allora, con i rifiuti di Roma, Vienna, ci hanno scaldato mezza città e un ospedale, pensi di affare, li abbiamo pagati per scaldarsi loro. Mi scusi una cosa, noi stiamo costruendo gli impianti che permetteranno con la raccolta differenziata di evitare che i rifiuti vadano fuori Roma. Non le stiamo dicendo, no, non si fa l'inceneritore e si mandano fuori i rifiuti. Gli impianti li stiamo costruendo per quelli che trattano l'umido, per quelli del riciclo, proprio per evitare che vadano fuori. Lei mi sta dicendo, ma perché non fate un inceneritore? Ci vuole meno a fare un impianto che stiamo progettando noi che fare un inceneritore. Quindi il problema, in ogni caso, esisterebbe in questo momento. Il problema è che i presidenti delle altre regioni, forse sono di quel partito, che stanno un po' maliziosamente rilasciando interviste e temporeggiando per impedire a Roma di trasferire i rifiuti come ha sempre fatto. Ma noi lo vogliamo risolvere e abbiamo già avviato la progettazione dei tre impianti che servono, oltre ad aver aumentato la differenziata. Nel quartiere ebraico è all'80% in questo momento. Un minuto e mezzo prima della chiusura. Brevissima domanda. Lei mi sembra stia evocando un complotto dei presidenti di regione del PD contro il Movimento 5 Stelle. No, ma voglio dire, comunque sia di un uso strumentale di questa... Conosciamo queste dinamiche politiche. Sì, ecco, però volevo dirle, non è un po' troppo autoconsolatorio dar la colpa ai presidenti di regione del PD, che magari qualcuno ci penserà pure, però forse il primo problema è quello di non avere neanche voi, come alcuni predecessori, fatto abbastanza per risolvere il problema. No, io le dico semplicemente una cosa. I cittadini devono sapere che qualsiasi problema che noi mettiamo nel programma come problema risolto ha bisogno di una programmazione e noi questa programmazione la stiamo dando anche nel programma nazionale. Io, per esempio, non ho mai detto che diventiamo un paese di energie rinnovabili dall'oggi al domani. Diventiamo un paese di energie rinnovabili con un programma energetico nazionale che ragiona da qui ai prossimi vent'anni nell'anco di una legislatura chiude le centrali a carbone, poi comincia a investire nelle rinnovabili per uscire dal petrolio. Tutto è programmazione e la differenza rispetto a quelli di prima che facevano mangiare gli impianti di Cerroni a Roma è che noi stiamo costruendo gli impianti della città per non far fare più il business sui rifiuti con i soldi dei romani ed è questa la differenza tra quelli di prima e quelli che ci sono adesso con tutti i tempi che ci vorranno per raggiungere l'obiettivo. Allora, grazie a lui. Grazie a lei. Speriamo che possa tornare presto da noi. Adesso, Domenico Modugno, lei è troppo giovane per... In che anno è nato? Lei in che anno è nato? 86. 86, insomma. Domenico Modugno, allora, si goda del blu di punto di blu che apre la pagina di Modugno. Grazie. 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 Grazie.